amici oggi sono la spiaggia ma qui è sempre un caos sono venuto già una volta di domenica anche di sabato è un casino non si può stare mai tranquilli c'è un casino qua prossima volta vado all'altra spiaggia quella che avete visto col tramonto perché qua non c'è pace c'è troppo casino c'è troppo troppo ma sì qui non puoi andarti a bagnare che ti rubano tutto mi sa non sono un paese che rubano però io non mi fido te mica mi metto a lasciare il telefono iphone 7 qua non mi fido perché troppa gente non riesce a controllare per il resto uno può andare l'altra spiaggia adesso mi sto un po rilassato qua che c'è bel sole tra poco dovrò partire per ritornare voi cosa fate la sabbia non scotta quindi è favoloso come il santo domingo la sabbia non scotta quando camminate sulla sabbia quindi è favoloso invece in italia vi bruciate i piedi a parte in alcune zone hanno detto in puglia non lo so ma la maggior parte dei posti quando camminate in spiaggia vi bruciate i piedi vi bruciate i piedi vi bruciate i piedi ecco no niente c'era una cosa ecco pieno di bambini come al solito sembra paese dei bambini allora uno si può rilassare bene dai adesso mi vado a fare il bagno forse ma non penso sto qua un sole qualche oretta e poi me ne vado la musica ogni tanto si sento qualche musica e ti arriva la sabbia la sabbia la sabbia la sabbia viva il marocco forza marocco forza viva il marocco paradiso ora devo andare spiaggia più tranquilla questa qua è troppo ruborosa troppo casino c'è troppo troppo casino sono circondato ok vi saluto bye bye dj david lacoste vi saluta non bisogna dire la sabbia god 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 quindi google google Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.